Una storia davvero commovente che ha portato un altro prestigiosissimo risultato per lo sport alcamese è quella di Margherita Emiliano che si è appena laureata campionessa italiana assoluta nella disciplina olimpica del sollevamento pesi categoria fino a 45 kg, un anno particolare e difficile per uno scricciolo d'acciaio che è stato costretto ad essere d'acciaio anche nella vita di tutti i giorni. È riuscita a superare tutto e a diventare ancora più forte di prima. Finalmente è arrivato, l'ho sognato per anni e sette anni che sono della squadra Iron Fit con Marco Radicello e finalmente dopo tanti sacrifici, tante volte ho mollato, tante volte ho ripreso, finalmente porto questa medaglia al collo che ho sognato tanto. Diciamo che è un orgoglio anche per la città di Alcamo, avevi un po' sulle spalle anche il fatto di rappresentare tutti gli alcamesi. Sì, sì. Diciamo qual è la categoria, quanto hai fatto, i numeri sono pure importanti. Sì, queste gare funzionano a range di peso, io ero nella categoria massimo 45 kg, denominata peso piuma, però riusciamo a fare anche lì grandi cose. Io ho sollevato del primo esercizio di strappo 55 kg, anche se è stato meno della qualifica, e di slancio 67, purtroppo sbagliato i 70, a cui tenevo tantissimo. E si è visto dei video che ci sono rimasto un po' male, però sono rimasta comunque contentissima del risultato. 122 kg complessivi, appena due chili in più dalla seconda, insomma è stata una finale davvero emozionante. Tutta la gara è stata emozionante, ci siamo rincorsi chilo per chilo, ci sono state molte strategie, e poi fortunatamente, sfortunatamente, uno sbaglio qui, uno sbaglio lì, siamo riusciti ad acchiappare questa vittoria con i denti. Una medaglia d'oro che arriva dopo che sei diventata mamma, quindi gli impegni in famiglia sono diventati tanti, ti sei sposata, gli impegni di famiglia. Ecco, dove trovi il tempo per allenarti e la forza per sollevare questi pesi? Sono... è difficile, veramente molto difficile conciliare il tutto. Sicuramente sono cambiate tante cose dall'ultima gara che ho fatto, dove mi dedicavo quasi solamente a questo. Mia figlia ha stravolto tutto, ma riesco comunque a dividermi tra un nuovo lavoro, tra lei, a cui io non tolgo un minuto. Io mi alleno quando lei è all'asilo, quando non tolgo un minuto a mia figlia, quindi cerco di organizzarmi al massimo per cercare di avere tutto quello che voglio. Tu non sei più giovanissima, sei dell'89, però metti in fila tutte le junior e tutte le atlete più giovani. Sì, è l'esperienza che ti porta a vincere. O comunque vivi le cose in un altro modo, con un'altra maturità e le collochi nel posto giusto. 35 anni sono abbastanza e ancora ce ne saranno altre soddisfazioni da prendere, sicuramente. Io ti ho sopranovinato lo scricciolo d'acciaio. Diciamo che da allora è cambiato tanto nella tua vita, è cambiato anche lavoro, è venuto a mancare un pezzo importante a cui credo tu abbia dedicato questa meravigliosa medaglia d'oro. Sì, come ho già detto e come continuo a dire, tutto quello che è vittorioso nella mia vita io lo devo a quello che sono, è quello che sono grazie a lei, è quello che sarò grazie a mia figlia, è quello che sarò grazie a mia figlia, è anche merito suo, è soprattutto merito suo e di tutte le persone che mi supportano, che non è poco, dalla mia famiglia che è veramente meravigliosa alla mia, la famiglia di mio marito che è la mia famiglia a tutti gli effetti e il mio allenatore che per me è un fratello, è un mentore, è il mio psicologo, è il mio psicanalista, è il mio allenatore, è poco. Diciamo che hai avuto chi tifava sulla terra, papà, ma dall'assù mamma che sicuramente faceva grandissimo tifo per te e questa è stata veramente la forza in più. Sì, sì, sono veramente felice, lo so che c'era.